Dal municipio di Termoli, Davide Cassani con queste splendide bici bianchi, intanto mi dici che ne pensi di questi pezzi di storia? Li guardi e ti immagini Fausto Coppi qui a pedalare, perché sono veramente dei gioielli. Pensare che con quei rapporti affrontavano salite che sono difficili oggi, con una tecnologia completamente diversa, con i pesi, con rigidità. Devo dire che quando vedi queste biciclette ti rendi conto di quanto sia fantastico questo mondo, perché alla fine questi erano veri gioielli, tanti anni fa. Poi tra l'altro se guardiamo quella foto lì c'è proprio la storia del nostro ciclista. Sì, questa è la foto iconica del ciclismo, coppie Bartali, che si passano una borraccia, una bottiglia, veramente qualcosa di suggestivo. Giro d'Italia 2021, Davide, parliamo in chiave abruzzese, che sta venendo fuori, cosa sta emergendo? Beh, tanto bravo e sfortunato Dario Cataldo, perché nella tappa di San Giacomo è stato raggiunto pochi chilometri dal traguardo. E Giulio Ciccone sta confermando quella crescita che lo porta ad essere uno dei più forti scalatori italiani. Io mi sono permesso di, non dico criticare, però di capire e soprattutto cercare di dire che secondo me Giulio Ciccone è un corridore che è diverso rispetto a quello di qualche anno fa. È un corridore che può lottare con i più forti, è un corridore che deve correre come corrono i più forti, perché lui in salita è uno tra i più forti, l'ha dimostrato anche a San Giacomo. Nonostante quella fuga in discesa, è riuscito negli ultimi chilometri a stare con Bernal e Devene Paul. Vuol dire che può lottare per un posto nell'alta classifica e quindi di questo ne sono particolarmente contento. Ma poi Vincenzo Nibali è lui il futuro per le corse a tappe italiane? Per adesso sì, perché lui ha un talone d'Achille che è la cronometro, ma per dire in un giro come questo dove di chilometri a cronometro ce ne sono pochi può fare molto molto bene. Deve solo concentrarsi, stare tranquillo, cercare di correre nel miglior modo possibile perché la gamba per stare con i migliori ce l'ha, anzi è lui uno dei migliori.